Grazie Presidente, ne userò molti di meno. Per fortuna che noi questa delibera l'abbiamo già letta, approfondita e esaminata nella Commissione Congiunta con Patrimonio e Politiche Sociali, perché se io avessi dovuto capire quello che c'era scritto dall'intervento dei proponenti che hanno fatto in discussione generale, io avrei potuto capire di tutto perché hanno parlato dei massimi sistemi ma della delibera non ne hanno fatto parola, oltre che citare la motivazione per cui l'hanno prodotta. Allora al di là del fatto che io penso che forse sono ossessionati dai migranti e dai nomadi e da tutti quelli che non sono italiani, più di quanto Berlusconi non lo fosse dalle toghe rosse e quindi forse dovrebbero farsi qualche domanda, probabilmente le risposte però sarebbero sbagliate se se le danno loro. Io vorrei dire che questa delibera, come già evidenziato dalla mia collega Vivarelli, non risolve questa tipologia di problematica, anche perché non è indicato, a differenza delle altre delibere che ci sono, l'importo massimo che si potrebbe dare per ciascun nucleo familiare per poter risolvere questo problema, quindi non è quantificabile ed inoltre con un solo anno di sollievo a queste situazioni che sono indubbiamente di fragilità, visto il reddito ISEE massimo che è previsto che è di 5.000 euro, sarebbero un tampone ma non riuscirebbero senza altri adeguati tipi di sostegno a risolvere questa problematica. Noi già stiamo pensando di risolvere e di modificare la 163, probabilmente anche la 154, però quello che voglio dire è che qui è sbagliato proprio il concetto e cioè quando una famiglia è in difficoltà, quando una persona è in difficoltà, è in difficoltà a prescindere se sia residente qui da un anno, due, tre, cinque, sette, dieci e quando vengono citati in aula degli esempi, tipo che una famiglia italiana viene sgomberata e invece una famiglia di colore gli viene assegnato un appartamento magari ci sono delle motivazioni perché quella italiana viene sgomberata e magari ci sono delle motivazioni anche perché viene assegnata l'appartamento a una famiglia di colore perché magari ha presentato regolare domande e stava in lista, quindi facciamoci delle domande e diamoci anche delle risposte ma che siano quelle giuste per cortesia? perché le persone fragili sono soprattutto persone al di là dell'etnia, al di là della residenzialità e non è con queste misure che si contrastano queste cose perché l'insofferenza e i mal di pancia non devono essere fomentati dalla parte politica però pare che questa cosa proprio non voglia essere presa in esame. Grazie